Su questa questione del welfare integrativo, del nuovo welfare, abbiamo cominciato a fare dei passi importanti. Quest'anno nella legge di stabilità ci sono 3-4 interventi che riguardano proprio un rapporto tra sistema privato e sistema pubblico che tende a coprire le nuove esigenze che gli andamenti demografici e finanziari non riescono più a tutelare in modo adeguato, quindi degli interventi innovativi. L'APE, cioè l'anticipo pensionistico, è uno strumento per anticipare con del risparmio privato un pezzo di reddito per fare un reddito ponte fino alla pensione, laddove non arriva il pubblico può arrivare un risparmio privato con un incentivo fiscale. RITA è un pezzo di trattamenti integrativi della previdenza complementare che può essere utilizzata non solamente per avere un'aggiunta di pensioni ma per finanziare anche qui il periodo che manca da 63 anni a quando si vuole andare in pensione. Ma ci sono, io sottolineerei altri interventi importanti, per la prima volta si decide di fare un investimento fiscale di sgravio sulle quote di salario contrattuale in azienda che vanno a finanziare del welfare integrativo sanitario.